infatti ma è che va con molti più fiori ma è che va con molti più fiori ma è che va con molti più fiori ma sono più resistenti ah è vero prendi quella prendi il contenitore ecco trovata ecco fatto tutta la spesa tranne il terriccio che lo carichiamo in macchina direttamente e il fertilizzante che bello eccoci 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.